Ciao a tutti! Ora vi vogliamo presentare lo show di iCarly! Allora, beh, benvenuti! Allora, io sono la nuova di iCarly e mi chiamo Valentina! Grazie! Comunque, oggi Spencer non c'è, quindi sono qui a parlarvi a voi qui in Italia. Quante domande mi volete fare? Ok, chiedetemela! Ora, per lo show vi cantiamo una canzone, una canzone molto bella! Quiero, quiero bailando! Quiero, quiero bailando! Quiero, quiero bailando! Ero il suono dell'allegria esperanza! Si te sienso solo un bambino! Allora, io sono la stappasso! Allora, io sono la stappasso! Ta, 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 ta! Quando mi lo vengo? Quiero, 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 quiero bailando! Quiero, quiero, quiero bailando! Ero il suono dell'allegria esperanza! Si te sienso solo un bambino! Alla stappasso! 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 Quiero, vengo! E.. Come voglio dire! Quando sono più grande vorrei essere una cantante Ma... Ma non so se diventerò E... Comunque... E ora è passata mia mamma E scusate! Io adesso sono qua Per non fatemi ci caso se io sono qua in pigiama perché comunque, ecco, anche se ho 13 anni, però comunque mi piacerebbe, come si può dire, da grande fare la cantante e diventare famosa e per quello che mi sono messa qua su YouTube solo oggi voglio dire che poi, quando sarò in terza media, io e i miei compagni ci metteremo su YouTube con la canzone dei figli e tutte queste cose qua e comunque, vi voglio anche dire che io, che essendo la prima volta che sono su YouTube, non ci sono riuscita a caricare dei video però, mi piacerebbe che voi mi scriveresse dei commenti come fare a mettere su un video tipo un video come quella di Laura Pausini, però, come sotto che la cantano loro e io faccio solo così E' così, capito? Datemi un consiglio, ok? Ottimo! Ciao! Buona serata a tutti!